Buongiorno. Buongiorno, vorrei commentare? Sì, l'avevamo prenotato qua. L'avevo prenotato io l'altro ieri. Ok, andiamo in quella curva rossa, va bene? Sì. Ho preparato una cima di fruo, che c'è un piccolo di buco. Ok. Com'è che l'acqua? Come gliela do? Vagli lì, in quel campo. Vagli passare sotto la... Vagli passare? Sì. Vagli passare. posso andare a camoglio con il traghetto? è scendato di là? la faccio passare l'altra facciamo tutti i caffi facciamo una doppia almeno quando volete andare siete liberi volete scendere? scendiamo subito qua? ci prepariamo 20 minuti siamo qua in giro ci fate un segno e arriviamo facciamo un razzo il razzo fa la caduta però a dopo puoi pagarti? pagate dopo quando rientrate a bordo dopo poi fino a che ora ci siete? quando ci siete voi ok c'è una zanitella va bene io non ho mai agganciato così sennò sta sotto adesso ci metti a porto lui la tua avita c'è un po' è un po' è un po' è un po' è intenziale Ma sono al vostro fio? Chi sa qui? Ecco lì sarà, va giù lì, va giù Ecco lì è quello che rimane che è il vero Hai capito? Anche i capitelli del risultato? Anche i capitelli del risultato